buongiorno signora buongiorno a lei cos'è questo sportello questo è uno sportello informativo delle associazioni di volontariato che esistono in provincia di cordenone anche fitto e qua siamo dove noi siamo a porcia nel distretto socio sanitario e abbiamo lo sportello informativo proprio a porcia che informazioni date qua diamo tutte le informazioni per le problematiche familiari che ci possono essere e diamo le informazioni delle associazioni che appunto possono dare una mano che utilità ha avuto allora io parto dalla mia esperienza personale e le posso dire che se io avessi avuto alcune informazioni che ho oggi avrei avuto vita molto più facile per quanto riguarda l'assistenza a mia madre benissimo e quindi per questo che lei fa volontariato oggi assolutamente sì perché è giusto che la gente sappia tutto quello che facciamo benissimo e lei consiglierebbe una sua amica di fare il volontario qui a sportello sì sì perché abbiamo tutti quanti bisogno di essere aiutati bene vedo che c'è un corso qua per volontariato sì inizia il 21 settembre ed è un corso informativo preparano le persone a conoscere le associazioni quello che fanno le associazioni bene le ringrazio molto grazie a te